A New York, per chi non vada a spese, c'è invece il Colony, uno dei ristoranti più cari e sofisticati del mondo. Mentre l'americano medio per sbarcare il lunario deve contentarsi della quotidiana bistecca, qui l'americano ricco può attingere a piene mani in tutta questa grazia di Dio. Formiche fritte, baccarozzi farciti, uova di farfalla, vermi al gratin, serpenti assonagli, topi muschiati, eccetera, eccetera. Il Colony è generalmente frequentato oltre che da buon gustai di fama internazionale, da uomini di governo, diplomatici, capitani di industria, ecclesiastici, aristocratici, eccetera, eccetera. Qui una colazione leggera costa intorno ai 20 dollari, circa 12.000 lire. Ma in considerazione dell'eccezionale rarità e squisitezza delle vivande, il prezzo è generalmente ritenuto onesto. Grazie a tutti.